Allora ciao benvenuti e benvenute in questo nuovo video sarà l'ultimo della serie relativa alle emissioni inquinanti dei motori a combustione interna in questo video in particolare trattiamo sistemi di post trattamento delle emissioni ovvero sia per motori benzina che per motori diesel vediamo i principali sistemi e come sono schematizzati un po' tutti questi impianti all'interno della linea di scarico delle vetture prima di continuare col video vi invito a iscrivervi al canale la maggior parte di voi che seguono i miei video non sono iscritti a voi non costa nulla per me è un grandissimo gesto per far crescere questo canale Allora quindi abbiamo visto come vengono emessi gli inquinanti dei motori e perché in che quantità che inquinanti vengono emessi dei motori a benzina e che inquinanti vengono emessi dei motori diesel adesso vediamo quali sono state nel tempo le strategie per evitare l'emissione di questi inquinanti allo scarico quindi tutti i sistemi di post trattamento delle emissioni in questo video farò riferimento esclusivamente alle tipologie di impianti relative a automobili Euro 6 sia benzina che gasolio Allora partiamo con motori benzina con motori benzina le principali emissioni sono relative a ossidi di carbonio, idrocarburi in combusti HC e ossidi di azoto Per quanto riguarda il benzina la linea di scarico più semplice per i motori benzina in iniezione indiretta quindi senza generazione di particolato o eccessive emissioni di ossidi di azoto la linea di scarico è composta da un singolo catalizzatore chiamato catalizzatore trivalente questo è un sistema che è presente nelle vetture a benzina da circa dagli anni 90 è tuttora ancora utilizzato in quanto svolge benissimo il suo lavoro al suo interno racchiude un sottostrato con materiali nobili quali servono per accelerare i processi di trasformazione, di ossidazione di alcuni particolari inquinanti in particolare palladio e platino relativamente alle emissioni di CO e HC e l'odio per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto all'uscita da questo catalizzatore avremmo esclusivamente azoto vapore e acqua, 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 acqua e antidecarbonica, CO2 il problema fondamentale di questa tipologia di catalizzatori è che la loro efficienza di assorbimento e trasformazione degli inquinanti varia sulla base del rapporto stoichiometrico della miscela ovvero dalla quantità di aria rispetto al combustibile all'interno del cilindro all'interno della combustione in particolare il punto ottimo di efficienza del catalizzatore si trova per miscele stechiometriche ovvero per miscele con la sua F pari a 14,7 aria a benzina quindi il motore va fatto funzionare sempre all'interno di un intorno piccolo, molto piccolo di questo valore pari a 14,7 per quale motivo? perché come vedete da questo grafico l'efficienza di riduzione delle emissioni di NOx, CO e HC dipende appunto dal rapporto stoichiometrico della miscela in particolare per il CO per miscele molto ricche non è efficiente mentre è molto efficiente per miscele magre idem per gli idrocarburi in combusti mentre situazione totalmente opposta per gli ossidi di azoto per il quale questo tipo di catalizzatori non riesce a trasformarli in azoto per miscele molto magre ma funziona molto bene per miscele ricche fino allo stechiometrico quindi l'ottimo di funzionamento è proprio in questo punto lungo questa linea quindi per miscele perfettamente stechiometriche da qui l'esigenza fondamentale per i motori a benzina moderni di controllare in migliore dei modi la miscela appunto la quantità di combustibile che viene iniettato rispetto all'aria che il motore sta aspirando per questo prima del sistema di catalizzazione e dopo sono presenti due sonde chiamate sonde lambda le quali attraverso la misura della quantità di ossigeno e gas di scarico danno questa informazione alla centralina la centralina riesce a gestire il sistema di iniezioni di carburante nel migliore dei modi per far sì da rientrare sempre nell'intorno di quel valore stechiometrico di 14,7 di rapporto aria-combustibile in questo caso ho disegnato due catalizzatori trivalenti uno più piccolo e uno più grande perché? perché i moderni test di omologazione per le vetture Euro 6, bank e benzina prevedono l'inizio del test a freddo che significa che i catalizzatori hanno un'efficienza variabile anche con la temperatura ovvero quando sono in temperatura raggiungono la loro massima efficienza mentre a freddo questa cala drasticamente dunque per far sì che si abbia un'efficienza ottima anche in quei momenti di riscaldamento del motore in quale il catalizzatore è molto grande avrebbe difficoltà a riscaldarsi velocemente ad entrare in temperatura si mette un catalizzatore molto più piccolo molto vicino all'uscita del collettore di scarico e questo si fa in modo tale che questo catalizzatore infatti si chiama fast light off ovvero con brevi tempi di riscaldamento questo entra subito in temperatura e comincia a funzionare molto velocemente quando il motore è completamente in temperatura comincia a funzionare anche quello più grande posto leggermente più a valle e si ha un trattamento degli inquinanti perfetto il discorso cambia leggermente per i motori benzina e GDI ovvero emissione diretta in questo caso mi spiegavo nel relativo video nel secondo si ha emissione anche di particolato e di osso di azoto in maniera un po' più massiccia e il particolato ha una caratteristica leggermente differente da quella di diesel e infatti vengono utilizzati anche in questo caso i filtri antiparticolato gasoline particulate filter questi però sono molto diversi da quelli diesel perché il particolato del benzina è molto più fine le temperature dei gas di scarico nel motore a benzina sono molto più elevate di quelle dei motori diesel perciò il filtro antiparticolato del motore a benzina non ha bisogno di rigenerazioni periodiche ma viene rigenerato diciamo in maniera continua cioè l'alta temperatura dei gas di scarico fa sì che nel filtro antiparticolato non si accumulino mai eccessive quantità di depositi carboniosi e quindi non si ha presente il bisogno di manutenzione e per l'utente cioè per chi guida una macchina di questo tipo è assolutamente invisibile questo sistema possono essere presenti anche i sistemi NSC ovvero delle trappole di ossidi di azoto sono molto rari ve li spiego un attimo giusto per completezza sono delle trappole ad accumulo di ossidi di azoto vengono accumulati ossidi di azoto quando soprattutto questi motori GDI soprattutto che funzionano con miscele globalmente molto magre quindi si è da questo lato del grafico l'efficienza di ossidi di azoto del catalizzatore è molto bassa e quindi vengono accumulati in queste trappole quando queste si riempiono e vanno rigenerate si attua una strategia di miscela più ricca in modo da rientrare in questa parte del grafico e far sì che in quel breve momento il catalizzatore trivalente riesca a trasformare tutti gli ossidi di azoto e quindi non emetterne mai allo scarico né durante le fasi normali né durante la sua rigenerazione passiamo ai motori diesel i motori diesel soffrono tantissimo l'emissione di NOx di particolato un sistema molto utilizzato a partire già dagli Euro 4 per la riduzione degli NOx soprattutto a carico parziale è il sistema EGR ovvero ricircolazione dei gas di scarico sostanzialmente questo è un sistema a bassa pressione long route cioè a percorso lungo ovvero i gas di scarico vengono prelevati dopo il loro trattamento quindi sono gas di scarico già puliti questi vengono rimessi nel circuito di aspirazione entrano nel compressore questo li comprime assieme all'aria fresca aspirata vanno raffreddati nell'intercooler e poi vengono mandati in aspirazione in questo caso questo porta a numerosi vantaggi ma il discorso è molto lungo appesantirebbe il video magari facciamo un video apposito più avanti la linea di scarico poi per pulire il gas di scarico del diesel questo è qua ho indicato sistema 4 vie perché questo sistema complessivamente presenta tre elementi capaci di ridurre tutti gli inquinanti emessi da un diesel ovvero ossidi di carbonio idrocarburi in combusti in quantità ovviamente minima come vengono prodotti dal diesel ve l'ho già spiegato particolato ed è NOx allora il primo è un catalizzatore 2 vie molto simile a quello che vi ho mostrato per un benzina come concetto di funzionamento che ossida il CO e HC idrocarburi in combusti e monossidio di carbonio dopodichè i gas di scarico entrano nel cosiddetto filtro antiparticolato questo filtro antiparticolato ha un'efficienza di trattenimento delle polveri molto alta circa del 90% formato da numerosi setti in quali il gas è costretto ad andare sono dei setti porosi ovvero lasciano passare i gas e riescono a trattenere nelle loro cavità nella loro porosità appunto le particelle carboniose che formano il particolato queste qua tenderanno poi ad accumularsi infatti il loro accumulo viene monitorato dalla variazione di pressione prima e dopo sono presenti dei sensori di pressione che comunicano alla centralina lo stato di accumulo del filtro antiparticolato quando questo raggiunge i livelli di accumulo troppo elevati va in conto la rigenerazione la rigenerazione di questi filtri avviene a circa 600 gradi per i filtri tradizionali quindi vengono attuate delle strategie di iniezione particolari per innalzare la temperatura di gas di scarico per un breve periodo di tempo e questo elimina completamente tutti i depositi ma non è che vengono emessi poi allo scarico questi vengono totalmente ossidate le particelle di carboniose e vengono totalmente eliminate ci sono poi altri filtri antiparticolati i FAP per esempio francesi che utilizzano un materiale che si chiama cerina che riesce a attuare le rigenerazioni a una temperatura più bassa circa 450 gradi rendendo più facili le rigenerazioni però il filtro antiparticolato è meno robusto in quanto quando viene a mancare questo materiale questa cerina deve essere manutenzionato il filtro o addirittura sostituito l'ultimo sistema proprio a partire dagli Euro 6 per l'assorbimento e il trattamento delle emissioni allo scarico di ossidi di azoto nei diesel è il cosiddetto catalizzatore riducente selettivo OSCR per gli NUX non viene utilizzato un catalizzatore a 3B come ne benzina perché? perché i diesel funzionano con miscele globalmente molto magre e sono proprio quei casi in cui il catalizzatore tradizionale non ha alcuna efficienza contro gli ossidi di azoto questo sistema funziona grazie all'ammoniaca l'ammoniaca NH3 attraverso una serie di reazioni che non vi spiego nel dettaglio va a ridurre gli ossidi di azoto ad azoto molecolare N2 l'ammoniaca viene prelevata attraverso una miscela che viene iniettata una cosiddetta urea e iniettata proprio nel c'è un serbatoio di raccolta di questo liquido si chiama AD Blue ad esempio questo liquido viene iniettato nel condotto di scarico poco prima del catalizzatore SCR ma questo liquido non contiene l'ammoniaca pura perché l'ammoniaca pura è tossica è pericolosa quindi contiene una miscela che fa sì di NH2 2CO questo liquido viene iniettato prima cioè una prima parte del catalizzatore che serve proprio a ottenere ammoniaca pura quindi NH3 da questo liquido viene iniettato l'AD Blue una volta che viene ottenuta l'ammoniaca questa nella parte centrale del catalizzatore questa riesce a ridurre gli NX ad azoto l'ultima parte di questo catalizzatore quella finale serve per trasformare l'eventuale ammoniaca residua perché non può essere buttata allo scarico ovviamente e tossica a ritrasformarla in composti ovviamente compatibili con lo scarico in ambiente questo sistema è molto valido come funzionamento riesce veramente a ridurre tantissimo le emissioni di NX allo scarico nel diesel il consumo di AD Blue questo si deve dire è circa il 5% del combustibile iniettato per il funzionamento del motore ovviamente questo liquido quando finisce va riempito di nuovo il serbatoio AD Blue altrimenti la centralina potrebbe andare in protezione e impedirvi proprio il funzionamento della vettura allora spero che il video vi sia piaciuto che sia stato utile per capire cosa c'è all'interno delle nostre vetture per eliminare l'inquinante allo scarico e ovviamente questi sistemi sono in continua evoluzione anche in base alle normative se l'intera serie vi è piaciuta fatemelo sapere commentate se la tipologia se queste serie vi piacciono posso pensarne anche su altri argomenti lasciate un like al video iscrivetevi al canale per non perderevi tutti i prossimi approfondimenti ciao